Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video durante il quale vi presenterò la top 3 delle migliori scrivanie gaming. Vi invito ad avere un'occhiata alla descrizione dove troverete tutti i link prodotti e le migliori offerte del momento e adesso passiamo al video. Quindi cominciamo con la scrivania gaming di Klim che è una scrivania da gaming ben progettata e versatile, ideale per giocatori e professionisti che cercano uno spazio di lavoro efficiente. Con una lunghezza di 152 cm questa scrivania offre un'ampia area per il tuo computer, monitor tastiera e altri accessori da gaming. Questa scrivania è costruita con una struttura in metallo resistente e una superficie in legno di alta qualità garantendo stabilità e durata. È dotata di un tappettino una scrivania molto grande che offre un'ampia area per il mouse e la tastiera. Le caratteristiche pratiche includono un portatazze integrato per mantenere il bevande a portata di mano e un gancio per le cuffie che mantiene le tue cuffie in ordine quando non le usi. Un vantaggio notevole è anche la garanzia di 20 anni dimostrando la fiducia del produttore nella qualità e nella durata di questa scrivania. Poi troviamo la scrivania gaming Eureka Ergonomic che è un'ottima soluzione per i giocatori e coloro che cercano un'area di lavoro multifunzionale. Con una superficie spaziosa di 156 su 64 cm questa scrivania offre ampio spazio per il tuo computer, monitor tastiera e altri accessori. Una caratteristica notevole di questa scrivania è l'illuminazione LED integrata che aggiunge un elemento estetico accattivante al tuo spazio di gioco o di lavoro. Inoltre è dotata di un grande tappettino per mouse che offre una superficie uniforme e precisa per il tuo mouse. Le funzionalità pratiche includono un gancio per cuffie integrato che mantiene le cuffie a portata di mano, un portavicchieri per tenere il bevande e un porta controller per mantenere i tuoi dispositivi di gioco organizzati. E per finire ecco la scrivania gaming Trust che è una soluzione spaziosa e funzionale per i giocatori e gli utenti dell'ufficio. Con una superficie ampia di 140 su 66 cm questa scrivania offre abbondante spazio per il tuo computer, monitor tastiera e altri. Una caratteristica chiave di questa scrivania è il sistema di gestione dei cavi che aiuta a mantenere i cavi organizzati e fuori dalla vista riducendo il disordine. La scrivania è dotata di un sopporto per cuffie che permette di tenere le tue cuffie in ordine e pronte all'uso. Un portavicchieri integrato offre un comodo posto per le bevande e questa scrivania è realizzata in un design moderno che si integra bene in qualsiasi ambiente. Ecco grazie per aver seguito questo video spero che ti sia stato utile. Non esitare a mettere un like, un commento ed iscriverti al canale è sempre un piacere. Ti ricordo anche che ho messo i link di prodotti e le migliori offerte nella descrizione. Puoi vedere tutto ciò e su questa nota ti dico a presto per un nuovo video.